...in tema proprio di riduzione dei, dice lui, una dieta per la fattumiera, dirigenti delle istituzioni scolastiche, ai rappresentanti e presidenti dei quartieri della nostra città e chiaramente della stampa che, ringrazio, decide di mettere in campo. Si tratterà questa sera di illustrare un progetto che vede la nostra amministrazione proseguire su quella strada virtuosa che è intrapreso dall'atto dell'insediamento fino ad oggi in tema di correcci, grazie davvero alla collaborazione di tutti, grazie davvero alla collaborazione di tutti i cittadini corrivolti.